Abbiamo appena predisposto un nuovo DPCM con cui proroghiamo le misure restrittive sino al 3 maggio. Una decisione difficile, ma una decisione necessaria, di cui naturalmente mi assumo tutta la responsabilità politica. È una decisione che ho assunto dopo diversi incontri tenuti con la squadra dei ministri, con gli esperti del nostro Comitato Tecnico Scientifico, con le regioni, le province, i comuni, con i sindacati, il mondo delle imprese, dell'industria, con le associazioni di categoria. Il Comitato Tecnico Scientifico ci ha dato una conferma. I segnali della curva epidemiologica sono incoraggianti. Ci sono evidenti indicazioni che le misure di contenimento sin qui adottate dal Governo stanno dando dei frutti, stanno funzionando. Stiamo ricevendo anche importanti riconoscimenti. L'Ufficio Europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ribadito che l'Italia si sta dimostrando un esempio, anche per altri Paesi, nelle misure di reazione per tutelare la salute dei cittadini. Ma proprio per questo non possiamo vannificare gli sforzi sin qui compiuti. Se noi cedessimo adesso, rischieremmo, come ci è stato anche raccomandato dai nostri esperti, che tutti i risultati positivi sin qui conseguiti potremmo perderli. Sarebbe una grande frustrazione per tutti, perché dovremmo ripartire da capo e potete immaginare anche con un aumento del numero dei decessi e delle vittime. Dobbiamo quindi continuare a mantenere alta la soglia dell'attenzione. Lo dobbiamo fare anche adesso, che si avvicina la Pasqua, che siamo ormai prossimi alla Pasqua. Lo dobbiamo fare anche per i ponti del 25 aprile, la festa della liberazione, per il primo maggio, il immagino impaziente di ripartire. L'auspicio è che dopo il 3 maggio si possa ripartire con cautela, con qualche gradualità, ma ripartire. Dipenderà questo risultato, questo obiettivo, dal nostro comportamento. Dobbiamo compiere questo ulteriore sforzo, dobbiamo continuare a rispettare le regole, anche in questi giorni che saranno di festa, dobbiamo continuare a mantenere le distanze sociali. La proroga che oggi disponiamo con questo nuovo DPCM che ho appena firmato vale anche per le attività produttive. Quindi abbiamo sempre messo e continuiamo a mettere la tutela della salute al primo posto, ma nello stesso tempo cerchiamo anche di ponderare tutti gli interessi in campo. Teniamo anche conto della tenuta, ci sta molto a cuore anche la tenuta, del nostro tessuto socio-economico, del nostro tessuto produttivo. La nostra determinazione è quella di allentare il prima possibile le misure per tutte le attività produttive per poter far ripartire, quanto prima, in condizioni di sicurezza, il motore del nostro Paese a pieno regime. Non siamo però ancora in quella condizione di poter ripartire a pieno regime. Dobbiamo quindi attendere ancora. Quello che vi possiamo promettere, che vi posso promettere, è che se anche prima del 3 maggio si verificassero le condizioni, alla luce ovviamente delle raccomandazioni dei nostri esperti, dei nostri scienziati, cercheremo ovviamente di provvedere di conseguenza. Ma per quanto riguarda le variazioni, c'è qualche piccola variazione in merito alle attività produttive. Dal 14 aprile, martedì 14 aprile, riapriamo cartolibrerie, librerie, negozi, soprattutto quelli per neonati, per i bambini. Avevamo ricevuto tante richieste, avevamo tante difficoltà che ci erano state segnalate, quindi apriamo con grano salis, con ponderazione, queste attività. Apriamo anche qualche altra attività produttiva, in particolare la silvicoltura, sarebbe il taglio dei boschi, dobbiamo consentire che si alimentino e vengano forniti i combustibili solidi, la legna, e anche attività varie forestali. Il lavoro per la fase 2 è un lavoro già partito. Non possiamo aspettare che il virus scompaia del tutto dal nostro territorio. Siamo già al lavoro per far ripartire il sistema produttivo in piena sicurezza attraverso un programma articolato, un programma organico. Superate la fase acuta, infatti, dovendo convivere con il virus, stiamo lavorando a un programma che poggia su due pilastri. L'istituzione di un gruppo di lavoro di esperti e il protocollo di sicurezza nei luoghi del lavoro. Per questa nuova fase ci avverremo di un gruppo di esperti. Ho firmato il relativo decreto che conterrà varie professionalità. Sociologi, psicologi, esperti di organizzazione del lavoro, manager, dialogheranno, questo gruppo di esperti dialogherà con il comitato tecnico-scientifico, quindi dialogheranno, interloquiranno e, a seconda dei casi, si affiancheranno in modo da avere la possibilità di modificare anche le logiche dell'organizzazione del lavoro sin cui consolidate, di ripensare alcuni radicali, radicati, scusate, modelli organizzativi di vita economica e sociale. Dobbiamo inventarci e proporre nuovi modelli organizzativi più innovativi, ne dobbiamo anche approfittare, in modo che tengano però, ci tengo a dirlo, anche conto della qualità della vita. Questo gruppo di esperti è preseduto da Vittorio Colau, uno dei nostri manager più stimati anche all'estero, e annovera varie personalità, non solo che vivono qui in Italia, ma anche alcuni dei nostri ingegni che abbiamo prestato all'estero. Abbiamo il professor Giovannini, la professoressa Maggino, che cureranno il benessere equo e sostenibile, la professoressa Mazzucato, che è a Londra, Moretti, Berkeley negli Stati Uniti, Raffaella Sadun di Harvard e tantissimi altri. Farei, adesso in questo momento faccio sicuramente un torto a tutti gli altri che non riesco a menzionare. E poi, dicevo, c'è anche il protocollo per la sicurezza dei luoghi di lavoro. Ecco, noi l'abbiamo già siglato, verso la metà di marzo, con tutte le parti sociali. Quello è il nostro testo base, la nostra Bibbia, da cui partire per la sicurezza dei luoghi di lavoro. I nostri esperti, i scienziati del Comitato Tecnico Scientifico lo stanno integrando, lo stanno rafforzando. Sarà quello che consentirà poi una ripresa in tutta sicurezza delle attività produttive. Quindi la raccomandazione a tutti i responsabili delle aziende è di iniziare ad approfittare di questo momento di sospensione delle attività per sanificare i luoghi di lavoro, per predisporre le condizioni di massima sicurezza per i lavoratori, attrezzandosi già ora e predisponendosi già ora per una corretta applicazione di tutte le rigorose misure di protezione e quindi anche il rispetto delle distanze necessarie negli ambienti di lavoro. È un protocollo che noi aggiorneremo e che diffonderemo, come abbiamo già diffuso nella precedente versione. Quindi dipenderà da tutti, dai datori di lavoro, dagli stessi comportamenti dei lavoratori, se tutto potrà procedere ed il sistema produttivo potrà riavviarsi a pieno regime in condizioni di sicurezza. Ricordatevi che il nostro obiettivo sarà sempre contenere il famoso indice di contagio R0 al di sotto di 1, abbassarlo sempre più. Non possiamo permetterci una riesplosione, una ricrescita della curva di contagio. Dovremmo anche ripensare, ed è per questo che abbiamo bisogno anche dell'ausilio degli esperti, alcune logiche dei trasporti, della logistica. Dobbiamo capire, ad esempio, come incentivare gli spostamenti per chi abita in prossimità dei luoghi di lavoro, evitando quei mezzi che ovviamente creano assemblamento e affrontamento.